cooperativa agricola volpago offre carne d'eccellenza ci trovi a volpago del montello pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago ben trovati al meteo la settimana si chiude con una domenica 17 settembre nel complesso tranquilla e con condizioni meteo stabili vediamo il dettaglio sul veneto non si verificheranno precipitazioni la giornata infatti sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento da cielo sereno o al massimo velato le temperature saranno stazionarie o in lieve locale aumento minime sui 13 20 gradi massime comprese tra 25 e 30 gradi spostiamoci ora sul friuli venezia giulia anche qui tanto sole con cielo da poco nuvoloso a variabile specie sui rilievi ma in genere senza conseguenze temperature minime tra 15 e 20 gradi massime sui 25 28 gradi infine diamo uno sguardo al trentino alto adige dove il tempo sarà soleggiato salvo la presenza di nubi basse specie mattutine temperature minime intorno ai 15 18 gradi massime comprese tra 28 e 30 all'incirca dal meteo per ora è tutto vi do appuntamento al prossimo aggiornamento cooperativa agricola volpago offre carne d'eccellenza ci trovi a volpago del montello pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago con la città di solito